Allora Chure è prima di tutto una storia d'amore, direi è una storia che racconta la voglia di amare e di essere amati da tutti i punti di vista. È l'incontro fra due anime molto diverse da loro, soprattutto i loro corpi raccontano una differenza molto grande e poi in realtà queste anime si ritrovano molto più simili di quelle che sono. I protagonisti sono appunto Salvo e Chure, Salvo è un padre single che per dare una vita dignitosa al figlio picchia la gente in giro per fare un recupero crediti e si imbatte in una ballerina transgender e da lì questo incontro scontro rimescolerà le carte per entrambi. Lei probabilmente è una sognatrice con una grande voglia di essere amata, lui forse capisce che in un modo ruvido anche un po' primitivo ha tanto bisogno di amare anche lui. Protagonisti sono attori che sono sconosciuti e più, lei ha detto che è una scelta ben specifica, un film indipendente con tutte le difficoltà di farsi avanti sul mercato. Allora assolutamente sì, diciamo c'è qualche nome più conosciuto però la maggior parte sono attori poco conosciuti o addirittura la prima esperienza come Vivian Bellina che è la protagonista nel ruolo di Chure secondo me come regista ma anche la produzione avevamo capito che era necessario avere il personaggio davanti all'attore un attore a volte troppo conosciuto arriva prima del personaggio. In questo modo per noi Vivian è Chure, la identifichiamo in questo modo. Questo sicuramente porta delle difficoltà perché sappiamo che il cinema italiano si muove secondo determinate regole. I nomi ti portano una distribuzione, ti portano nelle sale, noi ci stiamo riuscendo con tanta fatica e il nostro punto di forza è il film, noi crediamo solamente nel film.